Degna Enrico in Calabria, un weekend di fitness e ispirazione. La Calabria si prepara a un evento speciale che promette di lasciare il segno nel mondo del fitness. Degna Enrico, figura di spicco e icona di determinazione e passione per lo sport, sarà ospite il 22 e 23 settembre, rispettivamente presso la Flex Gym di Soverato e la Power Gym di Rende. Due giornate uniche, completamente gratuite, dedicate a tutti coloro che desiderano immergersi nel mondo del fitness, accanto a un vero professionista. L'evento di Rende, organizzato per celebrare i successi della Power Gym nei suoi primi due anni di attività, offrirà ai partecipanti la possibilità di vivere da vicino l'energia contagiosa di Enrico, che condividerà la sua incredibile storia di sacrifici e sfide superate grazie allo sport. Il programma prevede momenti speciali, si è soverato con un incontro pomeridiano presso la Flex Gym il 22 settembre, che arrende il giorno successivo. Il 23 settembre sarà una giornata particolarmente ricca di appuntamenti, la celebrazione del compleanno della palestra Power Gym, con una torta proteica, alla visita del negozio Naturium nella Galleria Marconi, fino all'attesissimo allenamento insieme a Deni Enrico. La giornata si concluderà con una sessione di foto e autografi. Un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati dei fitness calabresi, pronti a lasciarsi ispirare da uno dei protagonisti più influenti della scena sportiva mondiale. Giorno 1, domenica 22 settembre 2024, località Flex Gym Soverato, orario 16, 18 e 30. Alle 16 inizio evento presso la Flex Gym di Soverato, via Cuturella, 2, 4. Benvenuto ai partecipanti e introduzioni dell'ospite speciale Deni Enrico. Apertura con discorso motivazionale di Deni, sulla sua cardiera e come il fitness ha trasformato la sua vita. 16 e 30, 17 e 30, sessione di domande e risposte, momento di dialogo aperto con Deni Enrico, possibilità per i partecipanti di fare domande su allenamento, alimentazione e motivazione. 17 e 30, 18 e 30, foto e autografi. Deni Enrico si intratterrà con i fan per foto ricordo e autografi, momento di interazione personale con i partecipanti. Giorno 2, lunedì 23 settembre 2024, località Power Gym Arrende, a provincia di Cosenza, orario dalle 11 alle 18. Alle 11 benvenuto e festa di compleanno della Power Gym. Arrivo dei partecipanti in palestra, celebrazione del secondo anniversario della Power Gym con torta proteica, offerta a tutti i presenti. Dalle 12 alle 13, visita Naturium Cibo e Natura. Visita guidata con Deni Enrico al negozio Naturium insieme allo staff del negozio per scoprire l'essenza del progetto Naturium Wellness Shop. Momenti di interazione con Deni durante il tour e possibilità di discutere l'importanza dell'alimentazione nello sport. Dalle 15 alle 16, meeting nella sala corsi. Incontro esclusivo con Deni Enrico per scoprire i segreti del suo successo. Discussione su come mantenere alta la motivazione e raggiungere i propri obiettivi fitness. Dalle 16 alle 18, allenamento esplosivo con Deni Enrico. Sessione di allenamento pratico guidato da Deni Enrico. Consigli personalizzati su tecniche di allenamento e suggerimenti per ottimizzare i risultati in palestra. Alle 18, foto esclusive e saluti finali. Foto di gruppo e autografi, saluti conclusivi e ringraziamenti ai partecipanti per aver preso parte all'evento. L'evento è completamente gratuito, ma si consiglia di arrivare con anticipo per garantirsi un posto.